Insomma, vincere in Europa sia la Champions League o l'Europa League sicuramente fa bene al club, non soltanto dal punto di vista delle finanze, ma soprattutto dal punto di vista della fiducia. È il primo step, l'Europa League, e poi dopo hai la Champions League. Quindi devi, in un certo senso, però l'importante è imparare dai propri errori. Credo che la Juventus l'abbia fatto, sappia cosa deve essere fatto adesso per costruire un futuro migliore in Europa e mantenere quello che è stato costruito in Italia. e quindi credo che sia una lezione che è servita e verrà utilizzata per migliorare ancora la squadra.